Non so se in realtà avevo delle vere aspettative. Non ero troppo entusiasta, in realtà l'idea dell'estate non è molto collegata all'idea di andare a studiare. Non avevo intenzione di venire in una città come Venezia, perché è una città comunque per quanto bella molto difficile da vivere. Magari un'esperienza di orientamento può essere molto utile per capire finalmente cosa voglio fare davvero. Ho sempre conosciuto Ca' Foscari come un'università molto forte, in particolare nel campo linguistico e dell'economia. Questa settimana mi ha servito per capire come l'offerta formativa di questa scuola sia molto imponente, ma non di un'imponenza diciamo pesante, di come sia un'imponenza dinamica in un certo senso. Ho capito davvero cosa voglio fare o comunque l'ambito di studio che voglio seguire. È stata un'esperienza fantastica, innanzitutto per l'ambiente in cui si è svolto, per le persone che ho avuto l'opportunità di conoscere. E soprattutto Ca' Foscari come ambiente mi è piaciuto moltissimo. E dunque avevo delle aspettative che sono state soddisfatte, potrei dire. È davvero valida e spero di averlo potente di venire qui. Un'esperienza così qui a Venezia è stata bellissima, è stata veramente di ispirazione, diciamo, anche grazie alle persone che ci hanno aiutato, i professori, le tutor. Sono super soddisfatta e è stato molto stimolante. E vengo a casa con un miliardo di idee. Veramente è stata un'esperienza grandiosa. Davvero mi sono sentita onorata di partecipare a questa cosa.